ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo mio nuovo video ora ragazzi oggi andremo a visionare un cofanetto asiatico di un film del 2005 diretto da sui hark il film in questione è sevens world sette spade allora film ambientato nel 1660 circa agli albori della dinastia dei ching il film fa diversi richiami a un classico i sette samurai e anche al remake americano i magnifici 7 nel cast troviamo anche don yen che è noto per aver vestito i panni di hip man allora io per visionare film ho comprato queste edizioni in dvd a basso costo su amazon in quanto nell'edizione nell'edizione asiatica la lingua italiana non è presente oltretutto questo in edizione in doppio disco carina finché dura tantissimo dura ben 141 minuti il devo dire che il film l'ho dovuto guardare due volte per saperlo apprezzare la prima volta mi era apparso noioso ma forse anche il sonno mi aveva condizionato parecchio e quindi l'ho riguardato una seconda volta e devo dire che il film è molto bello visivamente molto bello molti belli molto belli combattimenti insomma due ore e ventun minuti che scorrono via velocemente e volevo parlare anche un attimo del regista sui hark che volevo ricordarlo anche per due pellicole girate con jean claude van dam la prima è double team gioco di squadra e la seconda è colpo su colpo a hong kong ok perfetto ragazzi detto questo adesso andiamo a visionare il cofanetto asiatico l'edizione è in dvd in tre dischi come ho detto lingua italiana inesistente adesso cambiamo l'inquadratura e andiamo a visionare questo bellissimo cofanetto eccoci qua ragazzi andiamo a visionare questo stupendo cofanetto allora nella costina proviamo la scritta tutta in oro seman swords abbiamo le caratteristiche e quello che è contenuto anche all'interno di vd anche l'altra costina è identica l'altra e qui dietro troviamo come potete vedere tutta la scritta in oro stupenda e qui sono raffigurati coloro che brandiscono le sette spade perfetto andiamo ad aprire il cofanetto allora l'apertura è da questa parte qua è calamitata quindi è a magnete il cofanetto si apre così in questa maniera adesso andiamo a cavare questa plastica protettiva e andiamo a visionare le sette spade non mi ricordo i nomi delle spade questa è la prima tutte fatte benissimo in ferro bellissime queste riproduzioni stupenda è un po' anche difficoltoso estrarle perché tutti in ferro ragazzi bellissime questa è tirando un po le sono una più bella dell'altra queste spade infatti questo scorre proprio come come nel film forse la mia preferita ce ne sono due tradi veramente molto belle andiamo a estrarre la penultima se ce la facciamo se dio vuole lo facciamo è eccola qua molto carina anche questa e adesso andiamo a vedere l'ultima delle sette spade perfetto lo mettiamo da parte ok qui andiamo a vedere cosa c'è questo va a rappresentare un po la copertina del dvd classico è anche numerato 653 dietro non c'è assolutamente niente ho visto che nel cofanetto non c'è nessuna numerazione può darsi che questa sia la numerazione del del cofanetto e poi qua troviamo i sette personaggi del film diciamo i sette attori protagonisti ognuno di essi brandisce una spada al fianco c'è la spada molto belle e questo è l'ultima ho fatto vedere dietro bianco in tutte quante questa la fascetta e questa è la vera e propria edizione allora cartone rigido molto grosso qui qualche segno di usura l'apriamo come ha detto cartone grossissimo qui sono alloggiati i primi due dvd e poi in quest'altra pagina chiamiamo la pagina perché sarà spessa non dico un centimetro ma sicuramente 6 7 mm sicuro è alloggiato il terzo dvd bellissima anche la serigrafia dei dischi stupenda per tutti e tre molto molto bella ok perfetto ragazzi io con questo ho concluso questo video di unboxing di questo bellissimo cofanetto asiatico nei prossimi giorni pubblicherò altri video quindi ci saranno altri video di unboxing e poi quando sarò pronto farò vedere una filmografia parziale di un attore che a me piace tantissimo ho scoperto non da tanto l'attore è un attore americano e non vi dico altro e quando riuscirò a vedere tutti i film che mi stanno arrivando in questi giorni parlerò anche di questo attore e ragazzi con questo io concludo il video e ci vediamo al prossimo ciao a tutti